Conosco il rischio della vita per voi e per i vostri familiari e vi sono vicino, come chiedo a Dio di darvi la forza di continuare a lottare e di toccare il cuore degli uomini e delle donne e delle diverse mafie, perché si convertano e cambino vita. Così Papa Francesco si è rivolto ai membri della Direzione Antimafia e Antiterrorismo italiana ricevuti in udienza in Vaticano. Il Pontefice ha sottolineato che la corruzione, le estorsioni, il traffico illecito di stupefacenti e di armi, la tratta di esseri umani sono autentiche piaghe sociali e sfide globali per tutta la collettività internazionale. Ed ha chiesto alla Direzione che combatte mafia Camorra e Drangheta, insieme al terrorismo, di dedicare ogni sforzo specialmente nel contrasto della tratta di persone e del contrabbando dei migranti. Questi sono reati gravissimi e che colpiscono i più deboli fra i deboli. Il fenomeno mafioso, ha aggiunto il Papa, a espressione di una cultura di morte è da combattere perché si oppone radicalmente alla fede e al Vangelo, che sono sempre per la vita. Ed ha ringraziato parrocchie e associazioni cattoliche che svolgono un'azione di promozione culturale per estirpare dalla radice la malapianta della criminalità organizzata e della corruzione. Quindi Francesco ha chiesto al Signore di proteggere i magistrati e le forze dell'ordine impegnate nella lotta alla mafia, assicurando la sua vicinanza. Al tempo stesso, il Signore giusto e misericordioso tocchi il cuore degli uomini e delle donne delle diverse mafie, affinché si fermino, smettano di fare il male, si convertono e cambino vita. Il denaro degli affari sporchi e dei delitti mafiosi è denaro insanguinato e produce un potere iniquo. E tutti sappiamo che il diavolo entra dalle tasche. E' lì la prima corruzione. Grazie. Grazie.